Crogiolarsi nei frammenti, come si fa a meditare? Questo è il titolo dell'incontro a cui hanno partecipato numerosissime persone nel contesto degli incontri nel Chiostro di San Domenico, martedì sera. La violinista Grazia Serra di Migni ha offerto alcuni brani musicali mentre il dominicano padre Giuseppe Barzaghi ha parlato delle disposizioni che sono necessarie per meditare, saper guardare tutto in modo integrale e profondo con il rispetto del frammento come se fosse il fondamento. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel mondo.